Tema delle normative sul Covid, i due macro cambiamenti sono appunto il Green Pass che non è più richiesto all'entrata delle aziende e poi la scelta dell'imprenditore di utilizzare o non utilizzare, in questo caso ovviamente nel settore privato, le mascherine. Noi ad esempio ora siamo distanziati, abbiamo scelto, anche se siamo in un ufficio, di non tenerla ma ad onor del vero, mentre abbiamo percorsi i corridoi avevamo la mascherina. Qual è l'indicazione di Confindustria? Sì, la Confindustria ovviamente è la prudenza, perché il discorso io credo che la Confindustria come tutti gli imprenditori stia a cuore ovviamente la salute dei propri collaboratori e dei propri dipendenti, quindi è chiaro che al momento in cui c'è una facoltà diceva, noi si può consigliare di tenerla però poi l'imprenditore può fare quelle che vuole, ovvio sarebbe secondo me non prudente dire ok tutti liberi perché si fa finta di niente, invece noi si è detto per lo meno per il mese di maggio, quantomeno vedere anche come si comporterà il pubblico perché i pubblici o i tre si dovrebbero riunire per capire bene cosa devono fare le strutture pubbliche, né comuni né province o quant'altro, poi vedere successivamente cosa fare. Però per il momento noi si consiglia di rimanere prudenti e fa in modo che comunque ci sia sempre la massima attenzione all'interno dell'azienda e ai fini ovviamente della salute dei propri collaboratori e dipendenti. Grazie. Grazie.